La prima tappa dei quattro trampolini era stata inizialmente spostata di un giorno, poi sarà disputata. Però si è alzata la temperatura, è piovuto molto, a Schoenach è piovuto di più. Questi gli ordini di partenza. Mauri Bjorgen che partirà con il pettorale rosso di prima del Tour de Ski. Quindi Heidi Weng partirà con il pettorale nero di, eccola lì, Martina Eckhagen, che non partirà. Stina Nilsson, il pettorale celeste di prima delle Under 23 della classifica totale di Coppa del Mondo. Oggi non c'è per Mauri Bjorgen il classico pettorale giallo, ma c'è il pettorale rosso proprio di prima del Tour. Attenzione a Teresa Juhug che ieri è finita anche se di poco fuori del podio. Cos'è questa gara? Una, 10 km, ad inseguimento, a far base al risultato della gara di ieri. Pettorale nero per chi è leader della classifica delle velociste, in questo momento la classifica degli Abuoni. In realtà sarebbe prima Mauri Bjorgen, ma non è che possa indossare tutti i pettorali, vestendosi a cipolla. E allora la seconda, come un po' accade nel ciclismo, nei grandi giri, anche nei piccoli giri, la seconda prende il pettorale in luogo della prima. Mauri Bjorgen, Norvegia. 15 secondi dopo Heidi Weng, Norvegia. 22 secondi dopo partirà Ragnhild Haga, Norvegia. 28 secondi dopo partirà Teresa Juhug. E poi la tedesca Nicole Fessel, sempre 28 secondi dopo, che è proprio di Oberstorff. Sono 10 km ad inseguimento con questa tecnica, il passo alternato, il passo spinta, la scivolata spinta, tecnica classica, rigoroso il tenere, salvo in salita, e nei cambi di direzione, nelle curve, gli sci paralleli, anche non nei binari. Lontane le azzurre. Ieri a sorpresa sono andate bene, fino a un certo punto a sorpresa due americane, in netta fase di ascesa la squadra americana tutta, Sadie Johnson e Lizzie Steven, settima e ottava. Adesso partono in tante perché dopo le prime tre, che la più partenza era cadenzata dal fatto che c'erano stati 15-10-5 secondi di abbuono, a Marit Wörgen prima, a Heidi Weng seconda e a Ragnhild Haag a terza, le altre poi praticamente in pochi secondi in molte atlete. Italiane decisamente oltre il trentesimo posto, la più brava è stata una giovane, 21 anni, Giulia Sturz, fiamme ordi Moen alla sua società. Lei è della Valle di Fiemme di Tesero, quindi lo stesso comune Tesero dove lago, non è che sia un lago lì dove ci sarà proprio la penultima tappa, tutta la penultima tappa del Tour de Ski il sabato 10, e la base di partenza a Lago di Tesero per la tappa ormai leggendaria, quella che con una salita impossibile porta all'Alpe del Cermisso. Ilaria de Bertolis, altra trentina della Valle di Primiero, il transacqua è la 47, fiamme oro di Moena, il numero è sinonimo del risultato di ieri, a ritardo 59 secondi per tutte e due, 49 Francesca Baudin, la valdostana di Champauchet, la più giovane delle azzurre, 21 anni, appena compiuti, Francesca Baudin e delle Fiamme Gialle, Virginia De Martinto Prennini e di Padono di Pomellico, partirà a 1.03, Baudin a 1.01, con il numero 51, 27 anni per lei, chiede la forestale, Gaia Vueric 55 a 1.04, Greta Loran 57 a 1.06, la prima è di Predazzo ed è Carabiniana, 23 anni e la seconda è Valdostana ed è, nelle Fiamme Gialle, 22 anni. Gara che si sta sviluppando, la prima delle non norvegesi, e per qui partita forte con il numero 10, perché era difficile immaginare il contrario, Jostina Kowalczyk. Coraline Hug perde un po' di terreno, è decisamente più brava, la numero 9 la francese in tecnica libera e oggi invece deve limitare i danni in tecnica classica. Nicole Fessel anche dovrebbe essere più brava in tecnica libera, però è migliorata in tecnica classica. L'undici è Kertun Iskanen, sorella di Ivo, lei che ha 26 anni, Ivo ne ha 21, ma Ivo è riuscito a portarsi alla fama quest'anno, l'anno scorso aveva vinto, quest'anno diciamo questa stagione, in realtà l'anno scorso. Ha vinto a Cunzamo, prima vittoria di Coppa del Mondo, intanto Morit Bergen a margine, piove, su Oberstorff. Teresa Juhug è andata a prendere Heidi Weng e a scavalcare anche Raghun Hildhaga, che è più brava in tecnica libera. Eccola qui che spinge come uno sesso, viene marcata stretta da Heidi Weng. Col 6 si è portata sotto il Flippstart Eusperi, che rischierà di pagare la distanza, arriva Jostina Kowalczy, il col Fessel è stato scavacato, appunto si diceva, del suo essere più brava in tecnica libera. Si è molto assottigliato allo strato della neve, proprio qui in località Reed, nel bosco di Oberstor, poco più in là, ma davvero poco più in là il confine con l'Austria, con una specie di enclave, quella della Kleinwalsertal, la piccola valle Walser, che è un territorio austriaco all'interno della Repubblica tedesca. Quando non facevano ancora parte dell'Unione Europea, ancora i cittadini di quella vallata, i cittadini austriaci, potevano usufruire degli stessi benefici dei cittadini comunitari, non solo. Pagavano in marchi, pur essendoci gli scellini in Austria, oggi euro per tutti. È andata a prendere addirittura la numero tre Jostina Kowalczyk, che come il resto in molte predilige, preferisce uscire dal binario, praticamente tutte hanno scelto di non stare nel binario, prevedendolo meno efficace. Con il numero 13 si sta ben comportando Denise Herrmann, Herrmann e Fessel, le due tedesche. Denise degli Herzgebirg, fa fatica intanto Westbury a salire qui, tanto che deve aprire, lo sci sinistro. Fa fatica anche Ragenhild Hager, chi non fa fatica, quindi sci preparati a dovere, e due chilometri è nettamente in vantaggio. Morit Bergen dovrà fare i conti ancora con Terese Juhok, è cresciuto il suo margine di vantaggio, anche nettamente. Juhok aveva 28 secondi, quindi sta recuperando qualcosa. Venga aveva 15 secondi. Viene su Justina Kowalczyk che partiva con 35 secondi di ritardo e sta recuperando alla grande. Appunto all'intermedio dell'1,9, 23 secondi in ritardo, guadagna 5 secondi. E anche Justina Kowalczyk, guardate come arriva a una trentina di secondi Kowalczyk. Anche lei ne guadagna 5. Diciamo che Juhok e Kowalczyk vanno sullo stesso passo. Assolutamente sì. Ma teniamo anche le italiane al passaggio al primo entretempo. Siamo alle chilometri, 9, in cima alla salita. Gran traffico in pista, viramento e maschi, sei giri da due chilometri e mezzo. Domani giornata di pausa, poi collegamento dalla Val Mustaisi. Lascia la Germania, la Svizzera, appuntamento alle 13. Martedì, con l'attesa unica sprint di questo Tour de Ski Bjorgen allo stadio al due e mezzo. Bjorgen al passaggio del primo giro, sette minuti a fare un giro al due e mezzo. Non male, è una pista abbastanza veloce, dunque, veramente l'acqua non ha compromesso troppo quella che può essere lo scorrimento e la velocità dell'attrezzo. Anche se vediamo molto grigio sul parterre d'arrivo e di partenza, vuol dire che è piovuto veramente tanto. Questa è la fase di discesa che le ragazze assolutamente devono interpretare in maniera perfetta, non assolutamente sbandare, derapare perché la sciolina veramente se ne va. Un segnale piccolo arriva dalla De Martin, partita piuttosto bene finalmente, viene da dire. La vigina De Martin aveva 1-0 in partenza, passa al primo intertempo, 1-0-6 la prima italiana sulla trentatresima piazza, le altre sono più indietro. De Bertrits a 1-13 con lei c'è anche la Bodena a 1-15. Comunque è pazzesco Giustina Covacci che come in discesa abbia perso 6 secondi. Giustina ha veramente tanti problemi in tecnica e in discesa, l'ha dimostrato ancora una volta su una pista così si perde 6 secondi in un giro, ne ha guadagnati 5 in salita e ne perde 6 in discesa e non puoi assolutamente avere possibilità di arrivare o pigliare quelli che ti stanno davanti. allo stadio Björgen Joao venga in 24 secondi bene ancora la De Martini che passa allo stadio a 1-06 trentaduesima piazza. Bene Virginia, bene, questa è la sua tecnica deve finalmente, qua si fanno i numeri, i numeri vedete che cadute. è veramente è tosta senza problemi però particolari. Pausa, poi torniamo per il tour de ski femminile. Ha cominciato la grande la stagione, l'anno scorso una brutta stagione, la peggiore degli anni recenti la carriera della ragazza di Padola di Comelico che tra l'altro si impegna anche per distrarsi con la penna per la rivista Scifondo fa un po' l'inviata quest'anno l'inviata in pista l'inviata al tour. Virginia De Martini partiva dal 51esimo posto. Altre cadute ancora Grefnings che è andata a prendere dentro un'azzurra Greta Laurent ha fatto strike prima da sola e poi in coppia. La svedese Maria Grefnings che è di Fallon dove a febbraio ci saranno i campionati del mondo e qui Teresa Juhawk con Heidi Weng che è la marca stretta Cristina Kowalczyk questo è il tratto di salita difficile proprio molto dopo la partenza. trentaduesima se andrà avanti così potrà portare a casa qualche punticino di Coppa del mondo partiva con 1.3 quindi sta andando molto forte ha perso solo tre secondi da Marit Berger che per carità amministrerà controllerà ma le altre italiane l'area di Berger è il 45esimo 1.17 partiva dal 47esimo punto Garma sicuramente Juag non ci starà a rimanere lì a guardare prenderà in mano la situazione del treno che insegue intanto inquadrata proprio Mari Björgen vediamo ora il distacco di Marit nei confronti di chi insegue ecco qua proprio Giustina prova a fare il ritmo alto di questo drappello che cerca di agganciare ma sarà duro agganciare la qui inquadrata Mari Björgen bella prova ancora della Germania con Fessel con Eimann tra le atlete in difficoltà c'è anche lontana dalle prime che sta Paimakowski che viaggia con la De Martins sostanzialmente sulla 32esima 33esima piazza Paimakowski atleta più volte protagonista già come classifica finale del Tudieschi sembrano darsi una mano questa è la sensazione Weng con Juhoud si proprio la coppia norvegese che cerca di rosicchiare qualcosa a Marit lì dietro cercano di darsi una mano assolutamente su queste parti in pianura ma Juhoud sicuramente è meno avvantaggiata lei darà il cambio nella parte di salita a Heidi Weng sta facendo bene anche Mike Kaspersen falla partita con il 29 viaggia sull'undicesima piazza con lei c'è anche Stina Nilsson in difficoltà invece le americane le più patinatrici che al tecnista Han Hag torna sotto con il tra le 27 la Hag è quattro dicesima bene anche Vicken che recupera dalla 32 alla quindicesima piazza là dietro ho visto anche una tuta rossa quella di Virginia ci vorrebbe veramente un bel scossone questa la sua tecnica potrebbe essere anche la sua lei è la sua neve contro la donna nel caso quindi nelle gare di inseguimento adesso è 32esima viaggia con Nistad ad esempio non lontana da gente come Kilonen che sono a 59 dalla testa sostanzialmente e può dare veramente uno scossone quello che è questa squadra femminile Virginia De Martin ha potenzialità in questa tecnica per fare bene tanto l'azione è veramente potente di Martin Björgen non esce dal binario la tecnica sopraffina supportata da una grande potenza di Martin Björgen braccia gambe non esce dal binario qui bisogna avere veramente tanta forza nelle 11 di fatto competizioni includiamo anche il doppio punteggio delle gare del mini tour di Lillehammer nella gara in classico poi un punteggio complessivo sulla tre giorni di Lillehammer beh è su 11 gare che danno punteggio la Björgen quest'anno è stilita 10 volte sul podio 6 volte prima 3 volte seconda una volta terza peggior risultato un quarto posto che dire intanto si scia fuori binario fuori pista la neve molto più veloce nella parte esterna al binario binario probabilmente che ha accumulato troppa umidità e troppa acqua Mari Björgen al passaggio del 4-4 allo stadio aveva 24 secondi su Yuhaug e Weng ricordo gli abboni al traguardo 15 alla prima al traguardo e poi 10-5 a scendere dopo domani tanti gli abboni in palio nella sprint potrebbe essere la sprint da Valmustai a dare un bel vantaggio a Björgen in raffronto a Yuhaug soprattutto un po' meno in raffronto a Heidi Weng si danno il cambio Yuhaug Heidi Weng Yuhaug in salita Björgen ha veramente una condizione incredibile perde anche qualche passo Yuhaug si proprio Teresina Yuhaug perdono 11 secondi dello stadio alla cima della salita Björgen in condizione eccezionale vuole accumulare tantissimo vantaggio quest'anno Björgen vuole mettere tanti secondi prima di arrivare all'ascesa ma ci c'è ancora troppe gare ne passerà ancora d'acqua sotto i punti dunque bisognerà aspettare in casa USA bene Sadie Björnsen che è la migliore alternista della squadra americana bene sta facendo la Germania come assieme vediamo se c'è la De Martin si la vediamo in fondo sta risalendo il distacco adesso comunque aumenta siamo sulla trentesima piazza per la De Martin con il petrole 26 c'è anche Hanni Killonen che passa adesso con il 15 Mononen la finlandese prossima al passaggio la De Martin ritardo oltre il minuto e mezzo o sul minuto e mezzo si sempre a ridosso della trentesima posizione De Martin sembra di di vedere un bel grip in salita dunque non escono anche Bauden tiene vediamola Mari Björgen nella sua tecnica in discesa guardate proprio come impostata Mari Björgen proprio non lascia niente al caso sta in piedi assolutamente non rischia nulla magari allargando un po' le curve ma va bene così il vantaggio c'è dunque può anche permettersi di prendere un po' le vie larghe un quadratura sulla parte bassa del movimento delle atlete gli sci il materiale essenziale in questa gara con queste condizioni meteo molto incerte stadio Björgen Juaga 37 venga 37 assieme e questo il gruppo con Björnsen con Ostberg con Kowalczyk che non riesce a fare la differenza non riesce a fare la differenza Kowalczyk che non è ancora in condizione Giustina in condizione strepitosa come come sa fare come conosciamo Giustina in tecnica classica soprattutto fa veramente paura quando è in condizioni Lovage è imbattuta in questa stagione al femminile stadio c'è la De Martini in questo gruppetto con il 43 prosegue la gran bella stagione di Petra Novakova condizione anche di mentale di De Martini esce dal binario Francesca Baudin la piccola valdostana che ci è piaciuta anche in quanto a tenace ecco è una ragazza che ha ampi margini di miglioramento ci piace perché lei ci crede ci prova Kenetti diceva questo per dirla in parole molto semplici voglio vedere ragazze stanche distrutte al traguardo ma certo che sì ieri Baudin si è appiccicata io aug ha avuto vita dura perché ma ci ha provato l'ho vista veramente soffrire questo è lo sport dello sci di fondo purtroppo chi fa fatica e chi riesce a dare tutto fa risultato altrimenti se ne può stare a casa siamo a metà gara Bjorgen 37 su Juhaug idem su Weng Bjorgsen benissimo 1-0-1 con Oestberg Fessel Kowalczyk Haga e sta facendo bene non a piazza a levitina Taneghina a 1-0-5 la migliore russa la russa che non ha Cech Kale in questo 3-3 qui rischia Joao per dare il cambio a Heidi Weng Heidi Weng così gli pesta proprio un attimino le code ma niente di tutto tanto Joao sembra far fatica sembra non avere grandi scite resino Joao questo oggi si aggrappa i bastoni ha perso qualche passo magari una sciolina non troppo perfetta nel grip per Joao tanto Giustina ancora una volta là sulla destra come vedete non è non è un passo da Giustina lei di solito in salita così attacca il turbo bene ancora sottolineo la propria di Sede Bjornsson già lo sconsano bene nelle gare in classico più volte nelle 10 lo ricordiamo con due setmi posti in particolare modo è la migliore alternista in casa Stati Uniti prosegue la bella gara è in condizione anche Nicole Fessel e poi c'è questa russa che sta facendo non una gara un gherone Altina Tannighina classe 89 poca esperienza ai massimi livelli ma quest'oggi ne ha e come a fianca Giustina Kovalci Giustina Kovalci che qua che fa fatica quando va vecchio il suo stile buttare giù il busto esageratamente ma pimpante ma non troppo sempre nel pelotone che insegue Joao e Heidi Weng là davanti proprio che fa il vuoto Mark Bjorgen e la Kovalcik in condizione serve davanti a questo gruppo Giustina Kovalcik se fosse in condizioni diciamo buone non ottime ma diciamo buone se ne andrebbe tranquillamente via da questo gruppo Tannighina la sorpresa di questo avvio di gara per le posizioni di immediato in calzo al di là della zona podio la Tannighina ha fatto bene il 2011 a Cusamo gara del minitore di aver in stagione fu quindicesima nel 10 classica pursuit la gara di pochissima esperienza a livello di Coppa del mondo quest'oggi benissimo questo è il tratto dove Mari Bjorgen secondo me guadagna tantissimo è un tratto misto pianura con dei saliscendi Mari Bjorgen tanta potenza nelle braccia dove può sfruttare la sua scivolata spinta ragazzi miei quest'oggi veramente Mari Bjorgen può mettere veramente un gap non dico un sigillo ma veramente mettere tanti secondi tra tra lei e chi insegue tra l'altro poi c'è la sprint della Val Mustari che sembra tagliata cucita come un abito per il Mari Bjorgen in raffronto a Wenger in raffronto a Ioagos tra l'altro ricordi ci portano indietro a dire anche che veramente è una sprint bellissima ma anche è una spettacolo veramente curata di minimi particolari proprio da Svizzeri veramente bella senza togliere niente alle altre organizzazioni delle gare ma veramente un colpo d'occhio che era veramente uno spettacolo da turista guardare una gara del genere vediamo anche le italiane De Martina 1,35 28esima piazza dietro di Leila Bauden 34esima 1,44 siamo al passaggio allo stadio per questa tenta metà gara poi De Betris a 1,52 comunque anche una YoAug Silvano così non dico si accontenta di stare con Heidi Weng ma non è la YoAug di inizio stagione in tecnica classica in battuta in battuta quest'anno in classe assolutamente sì perché se ne andrebbe via invece è lì che fa gara con Heidi Weng stanno perdendo su Marie Björgen l'hanno vista qualcuno un po' stanca ma probabilmente non è la YoAug di inizio stagione qui i secondi passano sono ancora là in fondo Marie Björgen è già transitata al 6 e 9 dunque un bel capo siamo sui 40 secondi quando vi sarà il passaggio di Heidi Weng con tre zio YoAug ricordo che la Weng è partita con 15 di ritardo da Björgen la YoAug con 28 secondi siamo prossimi ai 40 secondi allo stadio metà gara il divario tra Björgen e YoAug era di 37 secondi e scorrono scorrono i secondi Silvano saranno oltre i 40 sono 43 1 43 9 è veramente Marie Björgen una marcia in più quest'oggi il gruppo dove ci sono Fessel Covalci che compagnia aveva un ritardo di 1.01 e siamo sull'1.15 manca ancora un po' al passaggio in zona fotocellula in molte acque in una pista selettiva dura grande acco grande equilibrio non tanto per la prima piazza dove tutto sembra chiaro e delineato ma gran bagarre per la zona appena dietro il cuore veramente un numero guarda qui che drappello di atlete è su un dietro un minuto e venti da Marie Björgen Kowalski che è partita con 35 secondi quindi ne prende tantissimi e siamo al settimo chilometro condizione strepitosa Marie Björgen è arrivata qui a Ovesdorf condizioni veramente strepitose e là in fondo intanto vediamo la prima anche la Bauden più lontana degli italiani De Martin qualche passo qualche passo l'ha perso ma deve stare centrale tirare sul busto cercare di caricare sempre perpendicolare il peso anche la Finlandia questo oggi non traccia dentale con problemi di materiali vediamo questo replay Joao dietro Heidi Bang in questa fase di discesa in questa discesa molto tecnica Björgen allo stadio 45 secondi sullo Auge cambi regolari tra Heidi Bang e Teresè Joao ma qui davanti i cambi non ne fa una marcia veramente esagerata per Marie Björgen un passo bello anche da vedere in salita vi ricordo che i distacchi che vi forniamo sono quelli effettivi della classifica anche del Twidenski al traguardo poi andremo ad aggiungere gli abboni quindi di fatto Björgen rischia di avere un vantaggio intorno ai 50 secondi e più in classifica dopo solo due tappe su Joao o su Bang vedremo lei vuole assolutamente mettere più secondi possibili anche in questa gara perché poi non si sa il Twidenski ha la sua storia poi si ridimensionano tutte le quelle che sono i livelli per dimensionare il livello di Marie Björgen adesso penso che sia impossibile perché veramente è una marcia sopra a tutte quante vedendo anche una Joao non così pimpante anche se qui sta tirando quello che è la gara anche di Heidi Bang sembra adesso provarci tornare quantomeno a staccare la connazionale ma non è la Joao vista 25 in Coppa del Mondo non supportata da grandi materiali ho detto subito ha scalciato subito nella prima salita Teresa Joao e si sta grappando tantissimo ai bastoni questo è il sintomo proprio di non eccellente materiale sotto i piedi perché quando ti aggrappi alle braccia vuol dire che il grip non è ottimale problemi di materiale anche per la Finlandia con Niskanen ad esempio soltanto 17esima 1.33 Niskanen sul primo quest'anno in Coppa del Mondo Björgen il Turgieski Amore Odio due volte seconda nel 2007 e nel 2012 parecchi abbandoni decisione di non prendere parte a diverse edizioni del Turgieski per preparare al meglio Olimpiadi e Mondiali le manca soltanto questo la vittoria finale al Turgieski lei che ha vinto tutto Marit Björgen questa è la lotta per la seconda piazza e rischia di essere una lotta per la seconda piazza non solo di tappa ma per l'epilogo del Turgieski siamo alla seconda ne mancano tante ne saranno 7 di tappa ci vuole anche fortuna questo va detto al Turgieski condizione fisica che c'è eccezionale per Björgen ci vuole anche un pizzico di fortuna i malanni spesse volte in una settimana creano grossi problemi agli atleti e agli atleti sta un po' selezionando il gruppo proprio Giustina Kowalczyk dietro il gruppone che inseguiva si è messo in fila indiana tutta in fila indiana probabilmente il il passo di Giustina ha fatto abbastanza male infatti ha un po' sgranato quello che era il gruppone di una quindicina di atleti sono un po' meno adesso per l'Italia De Martin 26esima a 2 minuti e 10 di ritardo Bodin 34esima a 2.27 queste le due migliori italiane al passaggio al 7 e mezzo stadio ultimo giro non dobbiamo guardare la gara di Mari Björgen il distacco appunto dell'italiana magari anche come posizione 26esima De Martin non è male ha recuperato veramente tante posizioni De Martin e non è male intanto Mari Björgen ancora devastante l'azione della norvegese Björgen che ha vinto sette tappe nella sua storia sportiva al turdeski vinse tra l'altro la prima storica tappa del turdeski all'Olimpia Stadium di Monaco di Baviera nel 2006-2007 e intanto con il 38 una caduta una caduta con il 38 che non sia Nistad Nistad sì Nistad infatti l'ho vista probabilmente ha picchiato picchiato forte Claudia Nistad speriamo nulla di grave per l'atleta tedesca lungo corso in Coppa del Mondo prossimi dunque ad avere in zona traguardo Mari Björgen scatenata è una super norvegia anche quest'oggi bilancio stagionale che rischia di essere ancora una volta eccezionale per questa squadra vediamo Nistad che succede perché Nistad ha avuto è stato un problema di caduta o addirittura proprio di carenza succede a volte e vai in problemi ti vengono problemi fisici no no è proprio caduta è proprio caduta inciampata probabilmente in questa fase iniziale della discesa spero non sia nulla di grave diciamo della Norvegia sui 33 prodi stagionali assegnati al femminile ben 28 sono tagati Norvegia Norvegia che ha piazzato 7 donne sulle 12 finite a podio Björgen Joag Özberg Weng Fala Brüli Haga monologo norvegese rischio di essere monologo anche oggi Mari Björgen inquadrata in mezzo agli abiti di Obesdorf perde qualche passo anche lei ci sta ma la condizione fisica di Björgen è eccezionale sin qui in questa stagione nelle gare in classico Joag ne aveva dato insomma secondi su secondi quest'oggi secondi da lei al resto del mondo purtroppo problemi per Nistad problemi per Claudia Nistad intanto sempre cambi regolari di chi segue Joag Heidi Bang sul porto dello scorso anno nel Tour de Skit prima e terza nel Tour de Skit del 2014 cambio di passo in simultaneo per i due molto diversi nella loro azione Joag sempre con azioni ritmate alle stelle comunque adesso quasi terminata la gara per loro questa è la l'ultima salita che affronteranno della della gara a Preo ancora si fa vedere anche da specialista di distanza più lunga lei che è stata più volte capirezza del mondo junior un paio della sprenta tecnica libera sono dieci da altri tempi queste qua Silvano una dieci si aggirano sempre sui ventisei venticinque ventisei minuti qua saremo sui trenta trentadue veramente una dieci massacrante Miranda Norvegia ma anche ottima prova della Svezia Finlandia in difficoltà Germania che tiene con il suo migliore atleta Fesele Heigmann e tiene anzi rilancia raddoppia triplica il suo vantaggio vengono a dire Marit Björgen verso il traguardo là dietro nessuno busta la porta Björgen padrona del Tour de Schrie 2015 eccola qui al traguardo a distacco vedete andrete ad aggiungere secondi di abbuono lei ne prende 15 10 andranno alla seconda 5 alla terza Björgen che rischia di avere circa un minuto di vantaggio dopo due tappe in raffronto a Joao Hoa Veng eccole qui strepitosa veramente Mari Björgen che ha messo veramente tanti secondi erano 54 e 55 secondi l'ultimo crono quasi un minuto di distacco dalle due queste che inseguono Joao e Heidi Veng che brava Stina Nilsson quarta 1 e 34 ancora pochi metri per le due compagnie di squadra Joao sulla destra che fa fatica lo si vede è più potenza in questa fase finale Heidi Veng vediamo il distacco nel finale tengono sostanzialmente siamo sui 56 57 secondi sono 56 e 2 quindi Veng in classifica che ha un ritardo con gli abboni di 1 e 0 1 Juhaug a 1 e 0 6 è già un abisso tra Mari Björgen e le due compagnie di squadra Juhaug e Heidi Veng ha messo veramente tanti secondi e qui Spina Nilsson splendida prova per la giovane atleta svedese Sprinter che si sta difendendo la grandissima in questo turdi e poi c'è la Sprinter Valmustar ma guardate il distacco abissale che prende anche quest'oggi Stina Kowalczyk benissimo Stina Nilsson vedete la sua gioia poi la Germania soddisfatta per la bella prova portata a termine da Nicole Fessel Kowalczyk 1 e 39 più 15 in virtù degli buoni quasi a due minuti da Björgen è andato il suo turdi di ski probabilmente si è già andato il turdi di Giustina Kowalczyk ci aspettiamo l'italiana De Martin era intorno alla 25esima posizione vediamo se magari ha recuperato ancora qualcosina De Martin 27esima 2 e 43 l'ultimo riferimento lungo il tracciato con in ripresa anche la De Bertolis nella seconda parte di gara grande Björgen su Wenger Uau brillante Nilsson ecco qua terzetto norvegese che chiude questa 10 chilometri di Obersdorf seconda tappa del tour de ski ma di Björgen su tutti ha già messo un bel non dico ipoteca ma tanti secondi di vantaggio ecco là Virginia De Martin che sta arrivando ora punti primi della stagione Pegley stanca nel finale ma ci è piaciuta quest'oggi ci ha piovato ci ha messo cuore e ginta bene Virginia quest'oggi un piccolo passo in avanti il fondo italiano l'ha fatto quest'oggi chiude sfinita fotofinish va a punti comunque arriva anche se visto bene dunque Bauden poi De Bertolis l'una di Tolan bene recupera in finale De Bertolis si è ripresa Bauden 35 e 36 35esima la Bauden 36 la De Bertolis Björgen sentiamo Mari Björgen non lo vedo esattamente al finito ma è molto più grande ora si è chiesto dall'inizio ma hai trovato il tuo stesso pace sì il mio spazio era di fare il mio stesso race e ho scusato che ho scusato qualche seconda all'inizio la prima rata e poi nella seconda rata ho scusato che ho scusato la seconda e ho scusato aveva un piano di cercare di portare nel secondo giro di aprire il gas e cercare di mettere ancora più gap dietro a sé cercando di vedere anche cosa succedeva dietro ma non è successo assolutamente nulla perché ha tenuto veramente una marcia troppo alta quest'oggi di Mari Björgen sai i piani è un conto è farli poi un altro discorso è rispettarli lei li ha fatti rispettati è andata al di là forse delle sue priorose previsioni comunque l'umiltà anche di prima di partire per questa gara di avere un piano di cercare di vedere cosa succede dietro prima e dopo aprire il gas il secondo giro l'ha già aperto ma probabilmente una super Björgen è in condizione Juhaog bene ma non bene come in altre circostanze Stina Nilsson la grande sorpresa di questa giornata la conferma di Nicole Fessel Kowalczyk non è quella dei tempi migliori benissimo anche Emma Wicken che recupera 25 piazze risale sino al settimo posto in classifica assoluta sorpresa anche per Tanigina in casa Russia non male Ostberg e Aga per la Norvegia in difficoltà le 57esme altavuardo ed ecco qui lo standing appunto finale di di questa tappa Mari Björgen con dietro Edi Wenger 56 secondi mamma mia già un divario veramente perdono Lorenzo deve chiudere la sua prova voilà chi scende chi sale chi sale ancora più in alto di tutto è sempre lei Marit Björgen frecce rossa frecce verdi un segnale un segnale di ripresa comunque da parte di Virginia De Martin Nilsson brillante oggi a 1.48 poi Fessel a 1.52 Kowalczyk a 1.54 la decima atleta ha già un distacco Aga di 2.02 da Björgen siamo soltanto alla seconda tappa in classifica per l'Italia dopo due tappe De Martina è 29esima con un ritardo di 3.05 la Bodena è 35esima in classifica la De Bertolis 36esima più lontane Struz 51esima e Wuerich e l'Ormania siamo nel sud della Germania in Badia prossima tappa del Tugano